Nel carcere di Salerno Forni si è registrato un atto di violenza. Infatti nel penitenziario di Salerno c'è stata, secondo una prima ricostruzione dei fatti, un'aggressione ad un detenuto da parte di altri con arma da taglio composta da una lametta e un manico. Immediati i soccorsi con l'uomo ferito che è stato ricoverato in ospedale per un taglio ad un orecchio. Adesso sono in corso le indagini del caso per capire i motivi di tale aggressione.